Bella a tutti ragazzi, what's up? Qui è Ale e oggi partiamo con una nuova avventura Non siamo su Minecraft per questa avventura ragazzi, quindi un po' strano, no? Fa un pochetto effetto perché ho sempre fatto serie su Minecraft Quest'oggi invece siamo su un gioco che, raga, sarà pazzesco Oggi siamo su Youtubers Live, let's go! Eccoci finalmente su questo gioco uscito da poco, ci avrà un mesetto su Steam, insomma E ho visto alcune immagini, ho visto alcuni video e non potevo non farlo, raga È veramente una cosa spettacolare Sicuramente creeremo il nostro Youtuber e diventerà più famoso di noi perché, sicuramente Però, insomma, mi è piaciuto come struttura, insomma Tu ti devi creare il tuo Youtuber e devi intraprendere la carriera Appunto, come dice il gioco, di Youtuber Andiamo a vedere subito di cosa parla e di cosa tratta questo gioco Sicuramente ci sarà da divertirsi, raga E... cioè... vedemo, vedemo Tanto qui ci sta proiettando dentro la nostra casa Questa è la nostra casa, finalmente ce l'ho fatta Sono diventato... questo manco più di pai Cioè, sono uno Youtuber più popolare Stiamo entrando dentro una casa che, non so Gestisco un mio network Cioè, siamo addirittura proprietari di un network, regà Quindi, cioè... che vuoi di che fa? È stato un viaggio lungo e difficile Beh... ce credo Ce credo assolutamente E questa è la nostra camera Noi non... questa è la mia... è la mia storia Ah, ok, ok Raccontiamo come siamo arrivati fino a questo punto Infatti la nostra figura era scura Non ci vedevamo Infatti adesso ci dobbiamo creare il nostro personaggio Cercherò di farlo... simile Il più possibile a questo bel faccino Allora, personaggio Maschio Beh, questo non c'è tanta scelta, insomma Vediamo l'acconciatura Allora, ho i capelli abbastanza corti Regà, sembra strano Ma i capelli che mi si avvicinano di più sono questi È difficile, eh Gli occhi Beh, gli occhi ce li ho veramente... I più comuni di tutti Marroni Magari così? Dai, sì, forse sì Guarda Che bei occhietti La bocca Faccio così, tipo Leonardo De Carli Così, cioè I vestiti Allora qua Mamma mia Mamma mia Mamma mia Se ci sta quella dei Chicago Bulls Mi metto quella là No, non ci sta Porca troia Eccola quella dei Chicago Bulls Sta giù Vabbè, io partirei con quella dei Los Angeles Lakers Poi vediamo, insomma Se si può cambiare La cambieremo in un secondo momento Ma io Non mi rispecchio, diciamo, in nessuna di queste categorie Più o meno Sono un po' di tutte In un certo senso Ma visto che siamo su un gioco Io direi, a questo punto Di diventare Una cazzo Di superstar Di cosa puoi parlare sul tuo canale? Beh, qua c'è sta Solo Gaming Inserisci il tuo nome Allora, io mi chiamerò Ale proprio Perché comunque La mia inventiva È veramente Grande Il canale Old Minders Ovviamente Andiamo avanti E vediamo Cosa ci regalerà Youtubers Life Ho iniziato a fare video in questa stanza Mi era appena trasferito con mia mamma E non avevo molti amici lì intorno Diamo un'occhiata alle prime cose che ho imparato Prima di diventare lo youtuber numero uno Durante questi giorni mi sono divertito a fare video divertenti di giochi che avevo sulla mensola Vediamo che giochi ce stanno Cioè, ne sta uno, regà Empire Planet 2 Va bene Ci abbiamo solo questo Quindi Non c'è stata tanta scelta, insomma Ah, scegli il tipo di video Possiamo fare solo gameplay, regà Non abbiamo altre cose sbloccate Quindi faremo Come il primo video Un gameplay Su Empire Planet 2 Andiamo Andiamo a registrare Ok Seleziona Postazione di lavoro Ok, dobbiamo impostare la risoluzione del video In questo caso abbiamo solo la bassa risoluzione Perché per iniziare, regà Chi non ha fatto video col telefono Oppure con una telecamera scrausa Tutti quanti Quindi Webcam risoluzione video Bassa Microfono Seleziona filtro Non abbiamo un microfono Quindi si sentirà il suono Delle altre persone Nell'altra parte della stanza Tu madre che sta cucinando cucina Tu madre che sta guardando la televisione Al salone Ma a noi non ce ne frega niente Seleziona un orientamento Monodirezionale Ok, perfetto Dai Già questa ci può stare Seleziona il posto La postazione di lavoro Abbiamo solo il posto 1 Quindi davanti alla scrivania Ok, la potenza disponibile è 10 La configurazione è pronta Partiamo Ah, inserisci il nome del video Dobbiamo inserire il nome del video Empire Planet 2 Episodio 1 Un nuovo inizio Si va a registrare Si va a registrare Attenzione Vediamo il nostro personaggio Che si è messo alla scrivania Attenzione Andiamo a registrare Schermata di gioco Registrando Scegli la tua carta Reazione Sguardo assassino Espressione felice Commento cantando Va bene Ho 6 punti lampadina Scegliamo la carta Reazione Espressione felice Un'altra reazione Da scegliere Abbiamo 4 punti Quindi in questo caso Io farei commento divertente Ce le siamo gestite bene Qui abbiamo Guadagno totale Copione 5 Ancora non so ragazzi Di cosa stiamo parlando Perché ho iniziato adesso Però intanto Vedete la mia faccetta Che sta registrando il video Quindi abbiamo guadagnato 5 punti copione 4 punti recitazione 4 punti recitazione E un punto suono Non si sa come Visto che abbiamo il microfono Post produzione Adesso penso di andarci Infatti ecco Final premiere Ammazza oh Ammazza Non ci abbiamo un microfono Non ci abbiamo una camera Però ci abbiamo un premiere Ma va bene Va bene Dobbiamo quindi mettere la traccia Ok per il rendering Ci vorranno 6 ore e 7 minuti Madonna ragazzi Abbiamo registrato 7 ore E per l'upload 8 ore Quindi ci abbiamo praticamente La connessione Che manco L'antartide Ok andiamo a processare Questo video E vediamo Pubblica il video Empire Planet 2 Episodio 1 Un nuovo inizio Sta pubblicando Vediamo che c'è scritto Mi annoia il tempo Che ci mette a caricare Il video sul canale Ma ti dirò Che vedere le visualizzazioni Gli iscritti E i soldi generati Crescere E' sempre eccitante Inoltre ci sono sempre I commenti Che mi aiutano A capire cosa devo fare Con i miei video Cioè se questo riesce A guadagnare Un po' di iscritti Un po' di commenti Un po' di visualizzazioni Col primo video Regà già l'hiamo svortato Perché io Col primo video caricato Su youtube Non lo so La visualizzazione Era di mi padre De un amico mio E non lo so De un coglione Che era capitato Sul canale Così per sbaglio Ma vabbè Cazzo regà Quindi dobbiamo andare bene A scuola Perché se no youtube Solo scordiamo Non vedevo manco Corbinocolo Qua intanto Il video penso sia caricato Perché qui al lato Vedo Le statistiche Abbiamo 22 visualizzazioni 5 Questi che so Like Già monetizziamo il video Primo video Già abbiamo guadagnato 7 centesimi Ma va bene Va bene Abbiamo 8 iscritti sul canale Regà 8 8 9 Mamma mia Regà Ma più di pay chi È passato un po' di tempo E intanto Gli iscritti Sono diventati 20 Posso sempre controllare Se sono pronto per il test Controllando il calendario Sul mio cellulare Ma andare a scuola E avere buoni voti Non è tutto A volte vado a fare acquisti A controllare le nuove uscite Beh certo Non è che possiamo fare Mille video su Empire Planet Mi sembra insomma Acquisti Ok Vai Vediamo che si può comprare Oh Per ora ci sono solo 3 negozi aperti Ma andando avanti Sbloccherai anche gli altri Ah però abbiamo 100 Abbiamo 100 dollari Abbiamo 100 dollari Abbiamo 100 dollari Regà Io comprerei Hidden Bingo Babies Compriamolo Ma che ci frega E andiamo Ad acquistare Consegna 4 ore Va bene Intanto Almeno abbiamo un altro gioco Per fare video Quindi Diciamo che Ho già familiarizzato Con le basi del creare video E sui miei doveri Speravo che l'inizio sarebbe stato difficile Ma ho deciso di diventare uno youtuber E nessuno può fermarmi Devo farlo Cioè tu sei un pro Perché col primo video Tu hai fatto 23 iscritti 23 iscritti Cioè io arzo le mani Veramente Intanto c'è arrivato un pacco C'è arrivato un pacco Apriamo questo pacco E abbiamo Il gioco Ordinato Su Amazon Regà Mamma mia La mamma dice che Sai che puoi fare soldi extra Con i lavori temporanei Puoi lavorare Cliccando sulla porta Ma non dimenticarti Degli altri doveri Quindi la mamma dice Lascia sta sto computer E esci da casa Va a lavorare E porta i soldi a casa La mamma non ci ha torto eh Andiamo a fare Il lucidatore Di scarpe Che mi sembra Un ottimo modo Per passare il tempo Andiamo a lucidare le scarpe Oh Se siamo alzati I nostri 20 dollari Stiamo a 95 dollari Non è male come cosa Non è male assolutamente Ragazzi Questo era il primo episodio Di Youtubers Life Farà divertire Sicuramente Regà Io infatti Quando ho visto l'immagine Quando ho visto qualche video Mi sono subito innamorato Ho detto Vaffanculo Questo lo devo fare Perché è spettacolare Abbiamo un po' visto Le tematiche Abbiamo un po' visto I comandi E come funziona il gioco Quindi dal prossimo episodio Si parte a stecca Andiamo a comandare Sul tubo Ricordo ragazzi Che a breve Uscirà il video Per un anno Sul tubo Ci stiamo lavorando Lo stiamo facendo E cercando Di realizzare Nel migliore dei modi Quindi rimanete collegati Al canale Perché raga Fra poco Arriva Arriva Non vi preoccupate Seguite anche la serie di Paolo Che sta andando benissimo Sempre forte Paolino Però mi dispiace Perché mo' scalirei divisioni Incomincerai a perdere Non ti preoccupare Incomincerai a perdere Lo ripeto Grazie tantissimo Per la visione ragazzi Spero che questo primo episodio Vi sia piaciuto Spero che questa Mia scelta Di portare questo gioco Vi sia piaciuta E appreziate Noi Ci vediamo Al secondo episodio Di YouTuber's Life Andremo a spaccare i culi Ovunque A scuola A lavoro Su YouTube Da per tutto Qui Dali è tutto Yow